Nell'ambito della rubrica Dillo a Tele G oggi continuiamo appunto ad occuparci delle problematiche con Equitalia. È venuto a trovarci nei nostri studi il signor Antonio che viene dalla Maddalena e che ha ricevuto un bel pacco di cartelle da parte di Equitalia sia il signor Antonio sia la moglie di signor Antonio e anche la figlia di signor Antonio. Allora iniziamo un po' a raccontare il tutto dal principio. Voi avete un'attività commerciale alla Maddalena? Sì, abbiamo un'attività da circa 35 anni, bene inserita nel territorio locale. Cialmente l'attività all'inizio era interessata a mia moglie e poi è stata interessata a mia figlia fino a quando ha avuto dei problemi purtroppo di carattere medico e ha dovuto per forza di cose sospendere l'attività e adesso l'attività è interessata a me. Le cartelle che sono arrivate di Equitalia chiaramente sono molto pesanti e di difficile gestione a livello economico per cui stiamo cercando di chiedere per quanto possibile una direzione. Quello che troviamo in queste cartelle, a parte l'onerosità e la pesantezza proprio nell'affrontare le quote capitali che sono ingenti, è proprio la mancanza di possibilità o meglio di disponibilità a gestire per quanto il dovuto. Parliamo di cifre sue, sua moglie e sua figlia. Allora la mia cifra si aggira, la mia personale è intorno ai 50.000, intorno ai 58.000 quella di mia moglie. Le dico che già da aprile quando io ho richiesto in modo spontaneo e volontario di ricevere le cartelle nella loro totalità il debito si aggirava intorno agli 80.000. Per cui diciamo che da aprile ad oggi è già lievitato di altre 20.000 euro. Chiaramente andando ben oltre quelle che sono le comprensibili quote di interessi che normalmente si applicano per cifre di questo tipo. In più la cosa che vorrei rimarcare, visto nell'ambito che magari tanti altri sicuramente come me provano vergogna per una cosa che assolutamente non c'è da vergognarsi, è che purtroppo siamo vessati proprio da Equitalia, nel senso che quando si chiede una dilazione si vanno a pagare cifre che sono raddoppiate nei 72 mesi per adesso consentiti, speriamo che poi si porti questo discorso ai 120 mesi come mi sembra sia una delle vostre proposte che ritengo validissime. A questo punto però le dico, per mia figlia, le 78.000 euro di quota dovuta sono diventati 110.000 euro. E questo in quanti mesi o anni? Nei sei anni previsti, però chiaramente l'esempio tipico che mia figlia ha in questo momento stante il suo stato psicofisico ha un reddito mensile, un ISEE di circa 13.000 euro l'anno per cui con tutto l'ISEE mandato, tutta la documentazione psico-medico-sanitaria, perché chiaramente l'Equitalia mi ha risposto che non esiste nessuna legge che possa in qualche modo agevolare se non altro il pagamento di queste quote. Perché mia figlia vuole pagare, è una persona che vuole pagare, non ha le capacità debitori per poter pagare cifre di questo tipo, soprattutto in considerazione del fatto che dai 78.000 euro siamo arrivati a 110.000 euro. Cioè è improponibile una persona che vede entrare a casa a 1.200 euro per campare due figli, deve pagare 1.500 euro al mese a Equitalia, con cosa mangiano i bambini? Cioè alla fine siamo di fronte a questo problema reale. Per quanto mi costa io ho messo in vendita ovviamente due dei miei appartamenti che tra l'altro erano destinati, uno a mio figlio che si è lavorato da poco via a Sassari, e una mia figlia, ed è mio figlio senza lavoro ovviamente perché si è lavorato a novembre, e l'altra mia figlia che lo occupa da quando sono stati costruiti ovviamente a titolo gratuito, non potendosi permettere di pagare un affitto. Ecco per cui diciamo che la famosa mannaia di Equitalia sta arrivando sulla nostra famiglia per distruggerla, senza tenere in considerazione quelli che sono anche gli aspetti umani. Io tra l'altro ho scritto ad Equitalia chiedendo se c'era una normativa di legge che potesse in qualche maniera agevolare il pagamento di questo presunto debito, devo dire, presunto perché non c'è neanche permesso di andare a verificare la veridicità di queste cartelle, che risalgono tra l'altro all'83, 84, 86, 89 anni per i quali noi non abbiamo strutturalmente la possibilità di verificarne appunto la veridicità. Ci sono diverse problematiche, secondo me portano tutte da una parte, al fatto che non c'è la volontà di far onorare al contribuente il reale debito dovuto. Lei mi ha appunto parlato furionda del fatto appunto che c'è stata una vendita, una cessazione dell'attività in una determinata data, è un continuo richiedere, anche per la tassa mondessa mi stava dicendo, oltre quella data e quindi che questo che cosa significa? Significa che non c'è sinergia fra gli interrogatori, cioè chi emette un tributo, che sia il comune, l'ufficio tributi, che sia l'Inps, che sia l'ufficio camera di commercio, non si rende conto che un'azienda ha cessato la propria attività con certificato ovviamente camerale, con visure storiche camerale allegate, non si rende conto che la ditta è cessata e continua emettere la propria iscrizione per altri sei anni è evidente. Puoi sentirsi dire da Equitalia che la Camera di Commercio che sbaglia a non rendersi conto che non deve più emettere le cartelle, è molto facile questo farlo. Secondo me quello che non fa Equitalia è verificare a priori la veridicità e la consistenza del tributo richiesta prima di emettere la cartella, perché è facile emetterla se non c'è in corso per esempio un ricorso, se non c'è stato un condono o quant'altro. Cioè è facile dire tu devi pagare le quote di iscrizione all'albo camerale perché sei una commerciante dal 2000 a 2006. L'unica differenza, l'unico problema è che io dal 2000 ho chiuso l'attività cessata, per cui non devo pagare dal 2000 a 2006, perché dal 2000 a 2006 mia moglie è casalinga, con tanto di assicurazione per casalinga. Quindi l'appuntamento di questo pomeriggio con Equitalia cercherà di chiarire anche tutte queste cose, anche se poi alla fine in risposta e poche ce ne saranno. L'appuntamento purtroppo di questo pomeriggio serve solo perché è una cartella piena di documenti ai quali io purtroppo devo sottostare per evitare che mi scrivano le ipoteche sugli immobili, perché iscrivendo le ipoteche sugli immobili, lei sa benissimo che non si possono più vendere. Allora io per poter sanare questa situazione devo vendere gli immobili, ma Equitalia ha ben pensato di pormi e di scrivermi le ipoteche sugli immobili così che io non le possa vendere. Non le possa vendere a chi, dico io. E Equitalia se le possa prendere invece per darli a chi deciderà a lei. Presumo che sia così, ecco. Allora noi come Tele G abbiamo deciso, grazie anche alla disponibilità del signor Antonio, che ci darà una parte appunto nel suo centro commerciale, di andare alla Maddalena, perché c'è l'esigenza anche da parte di altre persone appunto di firmare questa nostra mozione appunto per le problematiche di Equitalia. Quindi saremo alla Maddalena nell'arco di questa settimana, ora comunicheremo comunque il giorno, comunque a metà settimana, e saremo lì appunto per raccogliere le firme. Questo è naturalmente un appello che facciamo anche a tutte le altre persone. Ci spostiamo, possiamo andare a Nuoro, lei mi ha detto che ha anche dei contatti nel Norese, nel Cagliari. Ci possiamo... ...problematiche di questo tipo, e chiedo scusa, non volevo interromperla, però secondo me il problema è mal visto dal resto dei media, anzi voi siete veramente da elogiare, perché, no, dico la franca verità, perché io non ho mai visto una trasmissione televisiva che si occupa anche delle cose più futili e più stupide, non occuparsi di un problema veramente grave, che distrugge le famiglie, più di quante altre fatti si sentono tutti i giorni in omicidio, eccetera. Va bene, sono importanti, è giusto che la cronaca viaggi. Ma questa è cronaca di tutti i giorni. Sono famiglie che rischiano di perdere i propri genitori, qualcuno che tenta il suicidio perché è preso e è oberato dei debiti. Cioè le reazioni fanno forse meno notizia, ma non è che siano meno importanti. Cioè le famiglie si distruggono con questo atteggiamento. Non dico a condiscendente, basterebbe valutare la volontà o meno del contribuente di onorare, anche se in ritardo, alcuni tributi che possono essere o sfuggiti o comunque il contribuente può non aver avuto la possibilità di pagare. Mettetoli in condizione di pagarli, non portateli via la casa, perché senza la casa uno è mezzo alla strada. Questo è fondamentalmente quello che volevo dire. Allora ringrazio signor Antonio per aver dato testimonianza di questa sua impresa, perché alla fine è un'impresa contro Equitalia, che Equitalia comunque è la rappresentanza un po' di quello che è il contenuto delle sue cartelle, però comunque sia loro continuano a mandare pagamenti senza magari a priori verificare appunto la veridicità dell'informazione. Quindi, ripeto, noi saremo alla Maddalena per la raccolta firme. Grazie a signor Antonio e stiamo a vedere quello che è successo. Arrivederci e grazie a tutti.